L'Europa boccia il progetto del Bosco dello Sport negando a Venezia la concessione di circa 93 milioni di euro che dovevano essere destinati alla costruzione di stadio e palasport. Dopo l'incendio del Busca paralizzato per ore il Ponte della Libertà a Venezia si ripropone la necessità di creare accessi alternativi alla città così l'assessore ai trasporti Boraso. È indagato per maltrattamenti l'amico della madre della piccola di Chioggia che l'anno scorso a 5 mesi era risultata positiva alla cocaina e ricoverata con politraumi a Padova. L'economia veneta in allarme, saranno più di 250 mila i lavoratori che andranno in pensione nei prossimi 5 anni è quanto emerge dal report della CGA di Mestre. Atto vandalico nella notte i danni dell'auto privata del dirigente della polstrada di Chioggia con sostanze acide e adesivi della squadra locale e la solidarietà del primo cittadino armelau. Metrerie di Murano al via da oggi fino al 18 maggio, le domande di richieste di contributi saranno da presentarsi online, un milione e mezzo lo stanziamento erogato. Dalle ceneri alla rinascita, quando i lavoratori salvano l'azienda in crisi accade a San Donato di Piave dove i dipendenti hanno salvato una tipografia dichiarata fallita a causa della pandemia. Buonasera, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. E dunque l'Europa ha bocciato, lo avete sentito, l'utilizzo di fondi del PNRR per costruire uno stadio e un palazzetto dello sport a Tessera. Dal comune di Venezia si parla di decisione politica più che tecnica, ma le opposizioni incalzano il sindaco sulla perdita di 93 milioni di euro di finanziamento pubblico. L'Europa non finanzierà la realizzazione del Bosco dello Sport di Tessera con i fondi del Piano Nazionale di Riprese e Resilienza. L'annuncio è arrivato dal ministro per gli affari europei Raffaele Fitto. Il mese ulteriore di riflessione concesso dalla Commissione europea per valutare il progetto ha confermato ciò che già filtrava da Bruxelles. Tanto che appena una settimana fa era stato lo stesso vice premier Matteo Salvini a criticare la scelta del comune di Venezia. Se ti danno dei soldi per la sostenibilità, l'innovazione, la riduzione delle emissioni, ma tu li usi per uno stadio, aveva detto al Gazzettino, evidentemente fai una scelta quantomeno bizzarra. La notizia è stata accolta in comune con stupore e contrarietà in attesa di conoscere le motivazioni di una scelta che all'amministrazione di Venezia appare più politica che tecnica. Diversa la lettura del Partito Democratico, per la segretaria cittadina Monica Sambo perdere 93 milioni di investimenti pubblici rappresenta una sconfitta epocale della giunta Brugnaro. Ricordiamo che le opposizioni a tal fine, ancora nell'aprile del 2021, avevano presato un insieme di proposte che avevano tre punti cardine, ambiente, casa, lavoro. E da qui, da queste proposte e da questi principi che bisogna ripartire fin da subito per intercettare le risorse europee e dare un futuro alla nostra città. Daniele Giordano, segretario generale della CGL di Venezia, parla di una notizia sconcertante per quanto prevedibile, ricordando le perplessità del sindacato sul fatto che il progetto potesse essere condiviso dall'Europa. Per questo Boscollo Sport abbiamo già impegnato l'avanzo del bilancio dell'anno scorso. In conseguenza è fondamentale capire quale sia la copertura finanziaria, se non sia il caso piuttosto di rivedere il tutto. Magari anche chiedendo ai privati, perché non se lo finanziano loro questo palasporto e questo stadio, come accade in altre città italiane, anzi. Disconfessione a tutto campo, chi arriva dall'Europa e della sconfitta di chi pretendeva di accaparare soldi pubblici per interessi che erano in massima parte privati, parla invece Giovanni Andrea Martini di tutta la città insieme. Dalla Municipalità di Venezia, Murano Burano, la consigliera delegata Sararco chiama alla mobilitazione. Ora il 27 ci sarà un consiglio comunale e invito i miei concittadini a venire insieme a me, un consiglio comunale, e chiedere a tutti insieme le divisioni di questo sindaco che troppo spesso ha regalato brutte pagine per questa città. A TVO costituirà una commissione d'inchiesta sulle cause dell'incendio dell'autobus che ha paralizzato ieri pomeriggio il Ponte della Libertà. Il mezzo è sotto sequestro in un deposito a quarto d'altino, ma soprattutto l'incidente di ieri ha riproposto con forza la necessità di creare accessi alternativi alla città per evitare altre paralisi. A meno di 24 ore dall'incendio dell'autobus a TVO che ha bloccato il Ponte della Libertà e messo in ginocchio il traffico da E per Venezia per un intero pomeriggio, la situazione appare rientrata alla normalità. Dalle 2 alle 5 di mattina squadre di operai hanno lavorato alla riasfaltatura della carreggiata, ma per il ritorno del tram bisognerà aspettare almeno una settimana. Abbiamo dovuto togliere questa notte 30 metri di rotaia, abbiamo dovuto ovviamente il danno, constatare il danno alla resina che tiene ferma la rotaia e soprattutto la parte aerea è stata danneggiata. Il pomeriggio di Passione, che ha visto migliaia di persone bloccate per ore da entrambe le parti del ponte, ha però riproposto con forza un problema noto e strutturale della viabilità veneziana. Alle mie spalle ci sono i 3,850 km che dividono Venezia dalla terraferma. Questa infrastruttura fu inaugurata esattamente 90 anni fa, il 25 aprile del 1933 e accanto al ponte ferroviario che scorre parallelo, che invece fu costruito quasi un secolo prima nel 1844, è l'unico modo per collegare Venezia alla terraferma. Però se si ferma questo ponte è finita. È dal 1997 che qui pianifichiamo i terminal. Quanto sarebbero stati utili dei terminal che noi prevediamo a Fusina, Pili, San Giuliano, Tessera e Montiron in una situazione di emergenza come quella di ieri. L'introduzione di linee di vaporetti tra Venezia e sua introterra potrebbe aiutare a gestire non solo i flussi turistici, ma il suo sommarsi a quel continuo trasporto di migliaia di pendolari in entrata o in uscita da Venezia che percorrono quotidianamente il Ponte della Libertà a bordo di automobili, bus, tram e treni. Nel frattempo l'assessore Boraso smentisce che ieri siano state elevate molti ad automobilisti in coda e spiega perché le due corsie verso Mestre non siano state aperte subito a doppio senso di marcia per iniziare a smaltire il traffico. Noi avevamo un problema di sicurezza. Chi ha visto bene le immagini, ha visto la potenza dell'incendio e poi ha sentito, voi avete visto in rete, girare anche le esplosioni. È evidente che in una situazione del genere di pericolosità, finché non siamo rientrati in temi di sicurezza, non era possibile riaprire l'altra corsia. La cronaca sono stati salvati grazie all'intervento providenziale di un tassista acqueo. È di tre feriti il bilancio dell'incidente nautico accaduto ieri sera a Venezia intorno alle 22 quando il barchino ha ortato una bricola tra San Giobbe e il Ponte della Libertà. Violentissimo l'impatto. I tre sono stati sbalzati fuori dopo un volo di diversi metri finendo in acqua. I due feriti gravi di 28 e 30 anni sono stati portati all'ospedale civile di Venezia, ricoverati in chirurgia e neurologia. Il terzo, recuperato prima dell'arrivo dei soccorsi da un'altra imbarcazione, si trova nel reparto di neurochirurgia dell'ospedale dell'Angelo di Mestre. Sul posto sono mozzatori dei vigili del fuoco e nucleo natanti della locale per comprendere la dinamica dello scontro. Lisoni compatibili solo con lo scuotimento. Parliamo del caso di una bambina di appena 5 mesi di Chioggia. E' indagato per maltrattamenti a un minore, l'amico della madre della piccola che l'anno scorso ad appena 5 mesi era risultata positiva alla cocaina. La scoperta dopo l'analisi del capello e dopo che la piccina originaria di Chioggia era stata ricoverata all'ospedale di Padova a causa di un sospetto trauma al cervello. Tra gli esami di protocollo per i casi simili al suo rientra anche il test del capello, motivo per il quale la piccola era stata sottoposta subito dopo l'ingresso in reparto e il cui risultato aveva lasciato tutti stupefatti. Il fatto l'anno scorso, ora a distanza di un anno, le indagini e gli accertamenti del perito confermano le ipotesi avanzate all'epoca dei fatti dagli inquirenti e cioè che la serie di traumi cerebrali presentati dalla piccina e per i quali non rispondeva agli stimoli in modo naturale erano le conseguenze dello scuotimento continuo, il cosiddetto baby shacking, modalità che purtroppo viene praticata nel tentativo di far smettere i poppanti di piangere o di lamentarsi. Stavamo giocando la difesa dell'uomo, la bimba, a distanza di un anno, si sarebbe ripresa ed ora è ospite di una struttura protetta presso una comunità. L'economia del Veneto è in allarme. Nei prossimi cinque anni bisognerà occupare 346 mila posti di lavoro, più della metà dovute a pensionamenti. Il progressivo invecchiamento della popolazione sta provocando un grosso problema al mondo produttivo Veneto. Tra il 2023 e il 2027 andranno in pensione più di 254 mila persone, il 12% dei lavoratori. Considerando che la crescita economica prevista in questo lasso di tempo dovrebbe generare 92 mila nuovi posti di lavoro, nel prossimo lustro il mercato del lavoro Veneto richiederà 346 mila nuovi addetti. Secondo la CGA di Maestre, l'incidenza più elevata di neopensionati sul totale del fabbisogno occupazionale sarà in agricoltura, quasi il 97%, nell'industria l'85% e nei servizi 65,8%. Nei prossimi anni anche in Veneto assisteremo una forte diminuzione del numero dei giovani e un grande esodo di lavoratori verso la pensione. Tutto questo provocherà un impoverimento delle maestranze che penalizzerà le imprese dei nostri distretti produttivi. Nel manufatturiero l'esodo più significativo verso la pensione sarà nell'industria del mobile, quasi il 100% in quello della carta e in quello del tessile abbigliamento. Comunque più in generale nei prossimi anni tutti i principali settori del nostro made in Italy rischiano di non poter più contare su una quota importante di maestranze di qualità e di elevata esperienza. Bisogna aprire con grande oculatezza gli stranieri e, senza costringere nessuno, in tempi ragionevolmente brevi aumentare il numero dei diplomati in materie tecniche e i laureati in quelle scientifiche. Altrimenti rischiamo di subire un lento e inesorabile declino. Da tempo ormai gli imprenditori denunciano la difficoltà di trovare dipendenti, una difficoltà coperta solo in parte dall'arrivo degli stranieri e la situazione pare destinata a peggiorare, non solo per effetto della denatalità, ma anche per la cronica difficoltà che è il nostro Paese ad incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Imbrattano l'auto del dirigente del commissariato di polizia stradale di Chioggia con la scritta ACAB, acronimo dall'inglese, che è un'offesa contro i poliziotti, e l'adesivo degli ultra della squadra di calcio locale. Il fatto, nella notte, appena trascorsa per mano di ignoti, che hanno pure versato una sostanza acida sul cofano. Solidarietà da parte del primo cittadino, Mauro Armelao, colpire il dirigente del commissariato di polizia equivale a colpire l'intero corpo della polizia di Stato, ha detto, nelle settimane scorse, dopo i fatti gravi successi in precedenti manifestazioni sportive, erano stati emessi dei daspo proprio ai tifosi del Chioggia. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, rimanete naturalmente con noi. Di nuovo in diretta, ben ritrovati, edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Dunque c'è tempo fino al 18 maggio per le vetrerie di Murano, per fare richiesta di contributo. Da oggi le imprese artigiane di lavorazione del vetro e della ceramica con sede nell'isola di Murano a Venezia potranno caricare le domande attraverso il sito internet del Ministero delle Industrie e del Made in Italy per ricevere a fondo perduto un contributo che permetterà loro di contrastare il caro energia. Lo stanziamento per un importo complessivo di un milione e mezzo di euro risale ai mesi scorsi, ma ora sono finalmente operative le procedure per l'erogazione. Da oggi le aziende di Murano possono finalmente fare la domanda per accedere al milione e mezzo di finanziamento nato con il mio emendamento nella legge di bilancio. Per presentare le domande le aziende avranno tempo fino al 18 maggio, la soddisfazione della sezione vetro di Confindustria. Tale stanziamento andrà a sanare una posizione che si è creata con quello precedente, ossia che per il raggiungimento del limite dei minimis molte aziende non erano riuscite ad ottenere tutti i fondi promessi. Anche dall'amministrazione comunale arriva un plauso importante. Le aziende del comparto di Murano, dopo essersi risollevate dal periodo del Covid, con questi soldi faranno fronte anche al problema energivaro che in questo momento è la cosa più importante da risolvere. Comunque c'è tanta speranza e tanta voglia di riuscire a riprendere la normalità. Quando i lavoratori salvano l'azienda in crisi accade a Sandona di Piave. Gabriele Pelizzonga, sono il presidente della nuova tipografia Colorama. Prima ero un dipendente. Dalla crisi aziendale causata dalla pandemia al fallimento fino alla decisione di risorgere dalle proprie ceneri. Ora sono sette lavoratori impiegati, di cui quattro ex dipendenti. Questa è la realtà di una tipografia di Sandona di Piave che, come l'araba finice, si è rialzata in piedi spiccando il volo grazie alla volontà e capacità di alcuni ex dipendenti che hanno saputo reinventarsi e unendo le proprie forze per formare una cooperativa al fine di garantire una continuità occupazionale a loro stessi e non privare il territorio di una importante storia imprenditoriale. Modello di grande plauso è certamente da esportare. Così l'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan. E qui la storia bella è che lavoratori all'interno qualcuna da 25 anni, qualcuna da 4 hanno deciso di assumersi una responsabilità. Hanno conferito tutta la loro naspi quindi quello che poteva essere un ammortizzatore sociale da tenersi come sicurezza e l'hanno messa nella loro idea imprenditoriale che era la loro azienda. Una sfida tra sogno e follia supportata dalla competenza anche di chi ha saputo indirizzare una giusta idea. Quindi sia la parte Conf Cooperative con le unioni territoriali, i centri servizi con le banche di credito cooperativo si è fatta una valutazione realistica della sostenibilità dell'operazione. Certamente non una passeggiata ma giorno dopo giorno una continua sfida compensata dai fatti con commesse e clienti che non mancano. Perché ovviamente stiamo pagando tutto quello che è il non fatto dell'azienda di prima però insomma vedo che comunque ce la facciamo i clienti sono contenti il lavoro c'è. Cambiamo pagina parliamo del Venezia Football Club i tifosi hanno voluto organizzare una festa per la squadra femminile. Non c'è solo il Venezia Football Club del campionato di Serie B a tenere alta la bandiera del calcio in Laguna ma il Comodoro e i compagni hanno anche delle colleghe altrettanto brave anche se forse meno conosciute al grande pubblico che fanno parte della squadra femminile che partecipa al campionato nazionale di Serie C. Il club Altamarea ha voluto festeggiare le ragazze con un evento a loro dedicato al pub Marciano di Canareggio e il 26 aprile la squadra femminile ha un appuntamento storico con la semifinale di Coppa Italia in gara secca a Meltri e contro lo Spezia. La parola a Milter e giocatrici. Contiamo fiduciosi di scrivere la storia nel club per quanto riguarda il femminile portando il primo trofeo al femminile a Venezia. Il progetto del Venezia è un progetto molto ambizioso e che crede tantissimo nel femminile. Il Venezia ormai mi è entrato nel cuore perché siamo una grande famiglia e maschile e femminile sono molto uniti e questa cosa è bella perché comunque è un mondo professionale ecco, cosa che comunque in altre società e in altre strutture non è così purtroppo nel calcio femminile quindi questa cosa è una cosa bella. Merito agli organizzatori che hanno pensato a una festa tutta dedicata al calcio in rosa. Volgiamo il nostro sguardo anche al settore femminile ed è giusto fare così perché per esempio nel nostro club che quest'anno annovera più di 180 soci più di 30 sono soci donne. Ci siamo chiesti come mai la squadra femminile viene trascurata ed è nata così spontaneamente l'idea di interessarci anche a loro un po' alla volta ci siamo accorti che effettivamente è un mondo di cui non si occupa nessuno dei club che sono tutti concentrati sul calcio maschile. Certo il calcio femminile è diverso ed è forse più difficile da seguire. Su queste belle immagini noi ci fermiamo grazie per averci seguito tra poco come sempre l'edizione di Treviso adesso le previsioni del tempo una buona serata una buona domenica arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama allo 0422 32 0605 Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006 Benvenuti al meteo la pressione atmosferica torna a diminuire attendiamoci un veloce peggioramento del tempo vediamo insieme il dettaglio sul Veneto la grafica di domenica 23 aprile ci mostra un contesto alquanto variabile di fatti in mattinata prevarrà il sole col passare delle ore più nubi e crescente probabilità di precipitazioni a carattere sparso temperature con contenute variazioni di carattere locale minime tra 8 e 13 gradi massime tra i 18 e i 23 all'incirca spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia dove inizialmente avremo ampie schiarite a seguire aumento della nuvolosità con piogge in genere moderate anche abbondanti nel corso della notte temperature minime tra 10 e 11 gradi massime sui 19 e 20 all'incirca infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige dove avremo schiarite e annuvolamenti più consistenti nel corso del pomeriggio dove saranno probabili anche delle precipitazioni temperature minime intorno a 9-11 gradi massime sui 22-23 gradi dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto arrivederci la tua bolletta continua a salire chiama allo 0422 32 0605 EXI professionisti del risparmio energetico dal 2006 l'onere lenta 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 chiama allo un innone aspastazione